Con la Coldiretti, la capitale della cultura italiana, Procida ha un'importante collaborazione. Ricordiamo che Procida è un partner anche di Procida capitale, ma al di là di tutto ciò c'è un'azione mirata, congiunta con l'amministrazione isolata e oggi avere, ospitare qui a Procida l'Oscar Green regionale nella piena testimonianza di un forte rapporto di collaborazione, di condivisione e di visione comune. La Regione Campania sta voltando pagina in agricoltura, finalmente l'agricoltura grazie anche alla forte determinazione del Presidente De Luca sta al centro dell'agenda politica, che stiamo accompagnando questa transizione ecologica, ma anche una transizione digitale e soprattutto favorendo l'innovazione con l'agricoltura di precisione. E con tanti giovani che si stanno avvicinando a questo mondo fantastico, trasferendo anche le loro capacità, le loro intuizioni, la loro fantasia. È un'avvicinione che già registrava e registra una grandissima vivacità imprenditoriale, ma con l'ingresso di tanti giovani sicuramente negli anni a venire potrà ancora di più affermare meglio la qualità delle nostre produzioni agroalimentari. Ci stiamo concentrando moltissimo sulla funzionalità alla salute dei nostri prodotti e dell'appello che ho fatto anche ai giovani, dobbiamo cercare di cambiare completamente anche l'approccio comunicativo. La Campania non è solo regione di prodotti di altissima qualità, ma anche regione di prodotti che fanno bene alla salute umana. All'altorno della dieta mediterranea è questa la sede della dieta mediterranea e noi dobbiamo caratterizzarla sempre di più affinché resti anche in termini di direttività qualcosa delle nostre imprese.